La certificazione va fatta da noi, il vino è siciliano e quindi abbiamo fatto una scelta importante, abbiamo rimesso in noto l'Irvo che è l'unico ente pubblico a poter fare questo perché è accreditato da Accredia con questi contrassegni di Stato che accompagneranno ogni singola bottiglia, si parla di 96 milioni di bottiglie negli ultimi tre anni, è un lavoro egregio quello che sta facendo il consorzio di vini e docche e quindi in sidergia con la nostra visione politica istituzionale e il lavoro che sta facendo l'Irvo abbiamo oggi garantito certificazione di qualità a garanzia dell'imprenditore che è il lavoro che produce e a tutela dal consumatore. Dal primo gennaio noi gesteremo anche il discorso dei contrassegni di Stato, le fascette che danno un'ulteriore garanzia al consumatore che quando va a acquistare una bottiglia sa che è un prodotto che a mondo ha avuto una certificazione. Oggi più del 50% del vino siciliano è doc, quindi origine controllata, vuol dire sicuramente sicurezza e certezza per il consumatore ma anche valorizzazione della produzione per chi lavora in vigna tutti i giorni e chi porta sul mercato il vino siciliano.